Interessante iniziativa presso la sala convegne Aldomoro di Vasto, un convegno organizzato tra gli altri da Ernesto Graziani, candidato del Partito Democratico per il prossimo Consiglio regionale con il professor Luciano D'Amico come candidato presidente. Di cosa si è parlato questa sera, Sindaco Graziani? Il tema di questo convegno è l'abruzzo dei sindaci, cioè del fatto rilevantissimo di portare l'esperienza dei sindaci in regione perché l'attività sindacale di fatto costituisce una palestra, un luogo dove si impara molto, dove si sta a contatto diretto con i propri concittadini, con l'elettore, non c'è alcun filtro, alcuna intermediazione e il sindaco è abituato a dar conto non con le parole alle esigenze della popolazione ma con i fatti concreti. Ecco, questa visione e questo modo di essere dei sindaci credo che sia importante trasferirlo in un organismo di rilievo superiore che si occupa della gestione del territorio, che non è soltanto quello posto all'interno dei confini di un comune ma molto più vasto corrispondente a quello dell'intera regione Abruzzo. Essere amministratori vuol dire avere esperienza alle spalle, non improvvisarsi tutto ad un colpo e i sindaci appunto sono l'esempio che bisogna fare la classica gavetta. Appunto, io proprio questo dicevo, che non è codificato, non è un obbligo, però io noto che i sindaci hanno un comune modo di essere e di sentire. Io quando conosco una persona mi accorgo immediatamente se svolge lo stesso compito, ricopro lo stesso ruolo ricoperto da me, se il sindaco si capisce all'istante, perché è abituato ad occuparsi dei bisogni concreti della gente. Non può fare discorsi filosofici il sindaco. Il sindaco, come direbbe Plutarco, si occupa dei bisogni anche più bassi della gente, mentre la filosofia può lasciare libero sfogo ai bisogni dello spirito. Questa sera, oltre a lei che ha organizzato questo convegno, ci sono altri primi cittadini. Sì, ci sarà innanzitutto il presidente della provincia, nonché sindaco di Vasto, Francesco Menna. Ci sarà Cristina Lella, sindaca di Torre Bruna, oltre che candidata alla regione nella lista del Partito Democratico, nella mia stessa lista. Ci sarà Vincenzo D'Ercole, che è il sindaco di Castiglione-Vesserraimondo, oltre che coordinatore regionale dei giovani amministratori del Lanci. Questo è uno degli ultimi eventi prima della scadenza elettorale. Quali saranno i prossimi? Il prossimo evento, quello rilevantissimo, ci sarà domani sera, ad Atessa, alle ore 18.30, questo è il teatro comunale, in cui si parlerà delle proposte del Partito Democratico, nostre proposte, sul riordino del sistema sanitario. Saranno presenti ospiti di assoluto rilievo. Giuseppe Zuccatelli, è considerato un luminare nella gestione dei sistemi sanitari. Basta dire che in passato è stato anche commissario della sanità abruzzese. Sarà presente un medico di medicina generale preparatissimo, che si chiama Lucio Zinni, e ci sarò io.